Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo fino a venerdì 20 aprile, nella fascia oraria 8-17, esclusi giorni festivi e prefestivi, riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli con Tursi e Polla in direzione Reggio Calabria in tratti saltuari. Sulla strada statale 7 bis di terra di lavoro fino a venerdì 27 aprile per lavori di ripavimentazione e attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra le località Griscignano d'Averse e Carinaro in direzione Villa Literno. Sulla strada statale 7-4 Erdomiziana fino alle 17 di martedì 15 maggio, riduzione di carreggiata tra le uscite Mondragone e Pesco Pagano in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 268 del Vesuvio fino alle 16 di venerdì 20 aprile, per lavori è chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Ottaviano-Zona Industriale e Ottaviano-Centro in direzione Napoli. Infine sulla tangenziale di Salerno fino alle 22 di lunedì 30 aprile, per lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto Cristoforo, è chiusa la rampa d'ingresso dello svincolo via Irno in direzione nord. Per la redazione Muoversi in Campania, Rossella Altamura.